Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma c'è qualcuno qui. Chi sei signore dell'altra volta? Vado a chiamarla, ma sta facendo il bagno, non so se può venire. Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò. Ma tu, hai fatto qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dici, senti, mi dico che non ci sono. Ma dimmi, sai scrivere di già, è bella la tua casa, a scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola, però ha solo una firma sul mio diario, l'altro non ha quella del loro papà, io no. Dille che son qui, che soffro da sei anni, e sono proprio la tua età. Ah no, io ho cinque anni. Ma tu la conosci la mia mamma? Non mi hai parlato di te. Aspetta, eh. Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Grazie. 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 Grazie.